Non mi ha visto Siente E' finto Ehi Non ti ho sparato No, se non ci rompi le balle no Non so neanche cosa ci sia a Richmond Don't move Brava Clem No No, no, no No Controlliamo il marchio Mi sembrava che stesse cercando di capire se noi eravamo con loro in realtà Oh no E noi stiamo Eleanor sta andando là Fuck Oh god Eleanor e Kate They're headed right to the middle of those assholes At least now we got an excuse to go after those motherfuckers Everyone just calm down Calm down? Calm down? How the hell do you want us to be calm about this? They're gonna fucking kill them Not if we get to them first There's an old train tunnel that runs under the James River From what I hear It should be a straight shot in the Richmond A train tunnel I could lead you guys there But since a hobby here said you're good people and all Maybe you could lower those guns first Lower than my ass We're gonna tie you up and make sure your story checks out Dai Mi fido Mi fido, mi fido Stava cercando anche lui di capire se noi eravamo di lì Della nuova frontiera Sono convinta che lui ci aiuterà Non lo so, questo... Ve lo sento Ma io scherzavo? Quindi è Gesù davvero? Devo capire che fine ha fatto il bambino Mi viene da pensare che il bambino possa essere a Richmond Dato che lei sembrava molto preoccupata Quando hanno detto che la nuova frontiera ha preso Richmond Avete visto? Lei si è allontanata per un momento e ha iniziato a fare tipo dei respironi Come se avesse bisogno di calmarsi in quel momento Non trovo altre motivazioni per cui avrebbe dovuto fare una cosa del genere Sì Sì I know, you're hungry. We're going to wait for them to go, and then we're going to find you some dinner. Hopefully find us some dinner. Son of a bitch. Hey, I can hear you in there. Let me in, please. God, there's so many. I better not get seen, huh? Oh, shit. Hey there. Hello. Pretty big group of them out there. Are you hurt? Any bites? No, no bites. Oh, shit. Almeno ci aiuterà a tenere la porta chiusa. Madonna, Jay. Una bambina con un bambino ancora più piccolo. The two of us. The three of us, I mean. Thanks, I guess. No problem, kiddo. Anytime you need an oversized doorstop. Paul. He's a cute kid. You guys living here? You seem kind of young to be a mom. What are you, 13? I knew his parents. But they're gone now. I'm all he has. And he's cute and lucky. He has someone looking after him. Not much of that anymore. We were out there scouting. Nothing out of the ordinary. And then... Ordinary. And then... Chaos and... Shit. Those bastards are slow, but goddammit. When there's enough of them. Yeah. I got separated from the others. God. I hope they all made it. Thought we were ready for anything. What were you scouting for? Gas? Water? Any supplies we could find, really? Sure as hell was worth it. My people are probably at the rendezvous by now. What's left of them, at least? By the way, I'm Eva. And my group, we call ourselves the New Frontier. He's hungry. Hey. Why don't you come with me? Meet my people. We have food. Blankets. Bottled water. Come on. Dinner's on me. I owe you one. That sounds good. That sounds great, actually. Once the hurt is gone, my people will find us. Altrimenti come farebbe a sapere di loro? Ecco. Sì, sì. Ora si spiega tutto. Ecco dove era E.J. Era lì. Balloon. Che lei c'è stata lì? Ma di sicuro? I should have told you sooner. I... I really should have. You were with those monsters? They're not all like that. I'm not asking you to forgive me. But you have to understand. I had nobody. And they had food, supplies. I was all alone, Javi. You don't know what that's like. They had also done the tattoo. It was a mistake. And so was not telling you about it. Tell me you're not still one of them. No way. Believe me. I just had to explain because if they're really in control in Richmond I can't let them see me. I just can't. So when we reach the other side of this tunnel I'm leaving. Y'all planning on joining us? Shh. You all hear that? Coming from over there. Can you see anything? Forse è perché lei ha paura che la ricatteranno con... con EJ. Oh no, 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 no. Eh la madonna, guarda Jesus. Oh shit. Quando hai bisogno di Gesù? Ma è matto! No, raga. C'è questo si è messo col fucile a pompa. Ma come stai? What the fuck? No one ever mentioned a train in the lane. Better find a way around it. We're fucking thin. Maybe we can just go through. Well, does it open? All right. Don't do si è lại lì. Oh, queste... Oh shit. Oh shit. Ok, via Ok, non c'è tempo No 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 No! Mi spiace! Ragazzi, mi spiace, è così però che doveva andare. Cioè, aveva preso lui come ostaggio. Mi spiace. Mi stava pure simpatico lui. Cioè, aveva puntato una pistola alla testa a un ragazzino. Cioè, va bene tutto, ma... Adesso loro diranno, dov'è? Eh. Eh, morto. Meno male che non hai colpato me, almeno quello. Non era il momento di dirgli che lei è della nuova frontiera. Cioè, avrebbe sbloccato Trip. Mi piace. Strano, sì. Mi sa che la fortuna è l'unica cosa che davvero non si può avere in un mondo del genere. Ah, fuck. Did they see us? No. I don't think so. Can you see anything, Javi? What are they doing? That's their car! È Kate! Ma l'ha bollata lì? E l'altra? Clem? Avete visto Clem lì dietro? Come here. Perché c'era Clem? She... She went ahead to get help. She hasn't come back. Dammit. They must have got her. Jesus, how far is it to their compound? Not too much farther now. Couple blocks at most. Gabe, help me lift her up. No, raga, c'era Clem lì dietro. Ma secondo me è un bug. Secondo me era un bug. Che tipo c'era lei, ma in realtà non c'era perché lei è scappata. Non lascerò che muoia. Beh, non è che sia finita benissimo l'ultima volta che ci siamo visti con loro, eh. Che tipo c'era lei, ma in realtà non 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 c'era